Benvenuti, siamo con il professor Giovanni Mento, psicologo e docente presso l'Università di Padoa, coordinatore del gruppo di ricerca NeuroDev. Benvenuto professore. Grazie, grazie a voi per l'invito. Professor Mento, l'attenzione è un costrutto molto inconvozionale che si sviluppa durante la fase di crescita e coinvolge varie aree cerebrali. Ci spiega brevemente come si sviluppa l'attenzione? Sì, allora, innanzitutto grazie per questo invito e per molto piacere essere qua vostro ospite. Allora, sì, come lei stesso ha anticipato, l'attenzione è un costrutto multicomponenziale, vuol dire che è una famiglia di meccanismi cognitivi, anche molto diversi tra di loro, che però hanno in comune il fatto di permetterci di metterci in relazione col mondo esterno, cioè di riuscire a dare un senso, a organizzare le informazioni sensoriali, che sono moltissime, per cercare di trarre appunto delle informazioni sensate e quindi anche di apprendere dal punto di vista non solo formale, quindi l'apprendimento diciamo scolastico, ma anche nell'apprendimento delle relazioni sociali, nell'apprendimento delle abilità motori e così via. Diciamo che quando parliamo di attenzione parliamo di un costrutto che a differenza di altri meccanismi cognitivi è considerato un meccanismo di tipo dominio generale, vuol dire che noi siamo capaci di usare attenzione indipendentemente dal tipo di informazione con cui abbiamo a che fare, quindi possiamo utilizzare l'attenzione per informazioni, diciamo di tipo visivo, uditivo, sociale, motorio, quindi è qualcosa che caratterizza tutta la nostra attività mentale, a differenza di altri processi che invece sono un po' più specifici, che entrano in gioco quando per esempio dobbiamo avere a che fare nel caso dell'apprendimento, per esempio con la letto scrittura, piuttosto che con altre abilità grafo motori, quindi parliamo in quel caso di abilità dominio specifiche. Ora questa differenza fa sì che la nostra capacità di usare attenzione è qualcosa che ci caratterizza sin dall'inizio della nostra vita fondamentalmente e che però va incontro a dei cambiamenti molto importanti. Ora quello che noi sappiamo da decenni di ricerca è che a differenza di come si pensava una volta, cioè che la mente del bambino fosse una tabula rasa, quindi c'era un po' questa idea, no? che tutto fosse legato all'apprendimento, alla capacità esperienziale, no? Questo è indubbiamente vero, però noi ora sappiamo molto di più. Sappiamo che grazie in parte a quello che abbiamo ereditato dalla filogenesi, quindi dall'evoluzione insomma, la nostra attenzione è già guidata molto precocemente da alcuni aspetti dell'ambiente che sono molto importanti per la nostra sopravvivenza. Uno per tutti è, insomma, sono gli stimoli sociali, no? Per esempio i volti. Noi sappiamo che sin dalla nascita, sono studi oramai più che trentennali, i bambini hanno la capacità di orientare il proprio sguardo e mantenere la propria attenzione in maniera più prolungata per tutto quello che sembra una faccia, che va a ricordare gli elementi di una faccia. Pensate che questa cosa noi ce la ritroviamo anche oggi con quello che noi chiamiamo pareidolia, no? Che è questo fenomeno per cui vediamo faccia dappertutto. la famosa faccia sulla superficie della luna proprio perché la nostra mente, il nostro cervello, è immediatamente catturato da tutto quello che può avere la capacità di comunicare un volto, perché un volto ha la capacità di comunicare intenzioni e così via. Quindi la nostra attenzione ha questa capacità molto precoce di essere guidata dall'ambiente. Quello che poi succede nel corso dello sviluppo è che subentra la capacità, come dire, non soltanto di farci controllare dell'ambiente, quindi dalla salienza delle informazioni, ma di essere noi a controllare l'ambiente. Quindi subentra quello che noi chiamiamo attenzione cosiddetta endogena, che a differenza dell'attenzione esogena ha la caratteristica di rispondere, diciamo, a quelle che sono delle nostre esigenze, delle nostre, vuol dire, istanze personali. Cioè siamo noi a dirigere l'attenzione nei confronti di quello che riteniamo utile, che riteniamo importante. Ovviamente questo ha bisogno di molto tempo per svilupparsi e ha bisogno anche di meccanismi dal punto di vista cerebrale molto complessi, che riguardano l'interazione non di singole regioni del cervello, come abbiamo pensato per molti anni, ma l'interazione di circuiti molto molto complicati tra di loro, quindi di moltissima area del nostro cervello. E quindi apro una piccola parentesi per sconfessare quel mito che dice che noi usiamo solo il 10% del nostro cervello, perché non solo non è vero, sarebbe impossibile. Noi utilizziamo tutto il nostro cervello sin da quando nasciamo fino a quando siamo adulti, anziani. Ecco, un aspetto importante sempre legato allo sviluppo dell'attenzione è che dobbiamo distinguere appunto, come abbiamo detto all'inizio, quelli che sono diversi i meccanismi dell'attenzione. Quindi la capacità per esempio di focalizzarci sui volti o su un aspetto diciamo parziale della realtà a che fare con l'attenzione selettiva o focalizzata. Un altro aspetto molto importante è la capacità di mantenere questa attenzione nel tempo, no? Quindi di riuscire a dedicare molte risorse energetiche cognitive su qualcosa che noi riteniamo utile, importante. Ecco, poi su cosa è utile e importante potremmo aprire un capitolo enorme, ecco, perché quello che può essere importante per me magari per un bambino non lo è, c'è molta differenza, diciamo, individuale. Però di sicuro se noi non abbiamo questa capacità di riuscire a mantenere le risorse energetiche mentali nel tempo facciamo molta fatica ad apprendere. Quindi tornando al discorso, diciamo, calandoci nel mondo della scuola proviamo a pensare per esempio a un bambino prima o seconda classe primaria che deve apprendere la letto-scrittura non solo avrà bisogno proprio delle abilità che chiamiamo in gergo di transcodifica, no? Quindi capire che da un segno corrisponde un suono e che quindi come si legano insieme due suoni quindi le abilità, diciamo, anche le competenze legate al suono, no? Fonetico-fonologiche ma ci sarà bisogno anche di riuscire a sostenere questi apprendimenti con molta attenzione. Ecco, professore lei ci ha parlato appunto di vari tipi di attenzione quindi quella selettiva, la sostenuta, la visiva, sonora ma ci spiega quale tipo di attenzione è maggiormente coinvolta nei processi di apprendimento? Sì, allora io direi che tutte le forme di attenzione sono fortemente coinvolte per esempio appunto la capacità di utilizzare l'attenzione selettiva è molto importante nel momento in cui noi dobbiamo leggere un testo e di conseguenza estrarre informazioni da apprendere se noi non riusciamo a focalizzare selettivamente l'attenzione sul testo inibendo le distrazioni che vengono dal resto del mondo ecco, non riusciamo a tirare fuori un ragno dal buco fondamentalmente però sono importanti anche altre forme di attenzione più complesse per esempio una forma che ha molto a che fare con l'attenzione che però è ben più complessa è legata alle nostre capacità di controllo cognitivo o di funzionamento esecutivo che hanno a che fare per esempio con la capacità di usare la nostra attenzione per controllare il nostro comportamento in maniera finalizzata a raggiungimento di un obiettivo faccio un esempio molto pratico proviamo a pensare a una classe di prima elementare che per definizione è una classe molto movimentata come è anche naturale che sia perché parliamo di bambini che da poco sono passati da un contesto di gioco destrutturato a un contesto strutturato in cui bisogna stare seduti sul banco ascoltare la maestra e così via ecco, quello che entra in gioco fortissimamente nella capacità di apprendimento è la capacità di autocontrollo e di inibizione di autoregolarsi questa è una forma che ha a che fare con l'attenzione è una forma di funzionamento una funzione cognitiva quindi l'inibizione che è molto legata all'attenzione se io non riesco a inibire le informazioni distraenti che provengono dall'ambiente quindi il compagno che mi sta parlando piuttosto che quello che vedo da fuori della finestra piuttosto che anche pensieri personali non so, voglio andare a giocare alla Playstation e quindi in quel momento io ho un pensiero interno che mi sta spingendo a fare altro se io non riesco a gestire queste informazioni non riesco a utilizzare le mie energie neurali in maniera selettiva la mia attenzione per stare su cui è ora per apprendere, diciamo, dall'insegnante quello che mi sta dicendo un'altra forma ancora più importante se vogliamo è la capacità di legare tra di loro diciamo delle informazioni diverse che possiamo prendere da più fonti e costruire concetti anche via via più complessi anche in assenza di materiale visivo cioè è un'attività che noi possiamo svolgere attraverso quella che chiamiamo memoria di lavoro o working memory anche questa è una funzione molto importante soprattutto nell'apprendimento della matematica fondamentalmente ecco, nelle operazioni non solo, ma questa è una delle attività in cui è maggiormente richiesta attività di working memory anche essa è legata all'attenzione quindi sono tutte funzioni complesse che non possono essere indipendenti questo vuol dire che se lo guardiamo a ritroso sottolinea l'importanza di lavorare molto, molto, molto precocemente già in epoca prescolare sulla capacità di rafforzare questa sorta di, diciamo, di anticorpi naturali che noi abbiamo, mentali che è la capacità di utilizzare attenzione per apprendere quello che stiamo facendo e quindi di cercare di essere noi a controllare l'ambiente e non farci controllare dell'ambiente Ecco, professore con l'avvetto dei social media e una società iversimolata sembra sempre più difficile mantenere l'attenzione su compiti prolungati ci spiega come funziona questo meccanismo e come possiamo allenarlo? Sì, il problema è che fondamentalmente quella che è l'ergonomia cognitiva cioè il modo in cui diciamo, gli strumenti tecnologici e mi riferisco in particolar modo al cellulare il modo in cui interagisce con le nostre funzioni mentali è abbastanza distruttivo nei confronti di quello che è il nostro naturale funzionamento mentale mi spiego meglio allora, se lei guarda come funzionano le nostre app o come funziona normalmente, diciamo l'organizzazione delle app in un cellulare un giovane adolescente e purtroppo anche bambini sempre più piccoli assistiamo sempre di più insomma al fatto che l'età di utilizzo del cellulare si sta molto abbassando beh insomma, quello che noi vediamo che hanno questi ragazzi riescono a tenere attive moltissime applicazioni contemporaneamente e questo significa che la nostra attenzione la loro attenzione è continuamente guidata dall'esterno da notifiche o da altri tipi di diciamo di input che arrivano direttamente dalla app proprio perché queste app sono ingegnerizzate in maniera tale da catturare continuamente l'attenzione della persona è un po' lo stesso funzionamento che c'è nei social media se vogliamo arrivano continuamente contenuti che hanno l'obiettivo di catturare dall'esterno la nostra attenzione tutto questo fondamentalmente va a discapito però della nostra capacità invece di mantenere l'attenzione sul compito fisso che può essere più rilevante per i nostri obiettivi in maniera prolungata c'è un libro molto bello che io ho letto che consiglio a tutti uscito credo forse un paio d'anni fa di una giornalista italiana che si chiama Lisa Iotti se non ricordo male che si chiama Otto Secondi che proprio denuncia in maniera molto cristallina questo cambio diciamo generazionale enorme nell'uso dei social media è la cosa emblematica che il titolo del libro Otto Secondi si riferisce proprio al nostro span attentivo cioè l'ipotesi è che se negli anni 70-80 o comunque insomma nei decenni scorsi eravamo in grado di leggere un testo anche un libro anche un libro di divertimento quindi non per forza un testo scolastico dedicando attenzione per parecchi minuti prima di interromperci naturalmente magari per fare altro perché la nostra attenzione ha anche bisogno di essere ogni tanto spezzata e recuperata ora questo sta diventando sempre più difficile cioè pensare alle nuove generazioni impegnate in compiti che richiedono un'attenzione che sia di lettura piuttosto che di altra natura svolgimento di un tema in maniera prolungata che vada oltre pochi minuti è veramente difficile proprio perché siamo abituati ad avere continuamente incentivi esterni tutto questo tra l'altro si basa su meccanismi neurobiologici molto precisi il nostro cervello tutte le volte che riceve un richiamo dall'esterno che sia la notifica del cellulare che sia il like messo su facebook piuttosto che la notifica di instagram tutte le volte che accade questo il nostro cervello fondamentalmente va incontro a un meccanismo di autocratificazione significa che c'è un rilascio dopaminergico che è un neurotrasmettitore che è legato proprio ai meccanismi di gratificazione di reward che è fondamentalmente indistinguibile dei meccanismi di gratificazione che noi abbiamo dal cibo piuttosto che da altre attività ludiche anche perché l'aspetto interessante è questo è che noi viviamo nel 2023 viviamo in una società molto tecnologicamente evoluta ma da un certo punto di vista noi abbiamo ancora un cervello dell'uomo di Neandertal significa che i meccanismi di funzionamento neurobiologico sono fondamentalmente gli stessi che ci caratterizzano da moltissimi anni da sempre al di là della qual è l'evoluzione della società quindi il nostro cervello non riesce chiaramente a distinguere se diciamo la scarica di dopamina che ci arriva perché abbiamo visto il like su facebook come dire a lungo andare può può essere può fare un danno cognitivo rispetto alla scarica di dopamina che ci può arrivare da un bacio della mia fidanzata piuttosto che da altri tipi di attività fondamentalmente sto un po' riducendo me ne rendo conto però il succo del discorso è che i mezzi tecnologici funzionano facendo leva su dei meccanismi molto arcaici di funzionamento del nostro cervello per cercare di legarci di incentivare l'utilizzo continuo la ricerca di reward continuo qual è il legame con l'attenzione il legame è che la nostra attenzione soprattutto la capacità di attenzione sostenuta quindi mantenere la concentrazione nel tempo è molto sgretolata da questo tipo di diciamo di di comportamento che è dettato dai mezzi tecnologici moderni e lo vediamo sempre di più nel fatto che difficilmente bambini anche molto piccoli riescono a mantenere soprattutto coloro che sono molto esposti ai mezzi tecnologici quindi coloro che già da piccoli hanno un cellulare in mano piuttosto che un tablet difficilmente riescono a svolgere delle attività prolungate nel tempo che siano anche per esempio il disegno è un fenomeno al quale stiamo osservando stiamo assistendo sempre di più purtroppo ecco faccio solo una piccola nota in realtà giusto così di colore in realtà quello che noi stiamo vedendo è qualcosa che si può ritrovare non solo legato al mondo della tecnologia ma è proprio un cambiamento generazionale importante ora questo è un aneddoto che io racconto sempre non so se lei è un appassionato di musica però ecco i pezzi degli anni 70 80 i grandi pezzi rock insomma erano caratterizzati da avere una struttura musicale particolarmente a parte lunga ma anche con un'introduzione di parecchi minuti pensiamo dei pezzi dei Pink Floyd piuttosto che ma anche anche dei pezzi diciamo della musica leggera italiana ecco tutto questo non esiste più perché i pezzi che commerciali che noi ascoltiamo il giorno d'oggi hanno un impatto immediato cioè fondamentalmente dall'inizio del brano all'inizio del ritornello che ci che ci cattura passa molto poco tempo questo proprio perché le nuove generazioni hanno bisogno immediatamente di ricevere un messaggio che attivi la dopamina c'è proprio una grande difficoltà a mantenere a costruire l'ascolto a costruire l'utilizzo dell'attenzione nel tempo detto in altri termini un ragazzino di 12 13 14 anni probabilmente non al giorno d'oggi non scoprirebbe più Pink Floyd perché non avrebbe più la pazienza e la capacità di ascoltarli ecco sono un po sono un po riduttivo però insomma questo è quello purtroppo ma questa attenzione può essere allenata questa attenzione sostenuta può essere allenata certamente certamente la nostra mente è una metafora che non amo moltissimo però ecco per renderla più semplice la nostra mente può essere considerata come un muscolo nel senso che noi possiamo possiamo sicuramente allenare le nostre funzioni cognitive allora una per esempio delle cose che noi sappiamo è che più manteniamo attiva la nostra mente in età adulta più più come dire riduciamo il rischio di un decadimento cognitivo precoce o patologico questo vuol dire che c'è un margine di diciamo di cambiamento molto importante già in età adulta perché non pensare addirittura che questo non possa accadere in età evolutiva dove per definizione i meccanismi di neuroplasticità sono massimi questo però significa che noi dobbiamo renderci conto anche che l'attenzione va allenata indipendentemente dal dal suo utilizzo pratico cioè vi spiego non dobbiamo preoccuparci di allenare l'attenzione quando siamo all'elementari e quando vediamo che questa può servire per l'apprendimento o per altre per altri tipi di attività pratiche dobbiamo cominciare a preoccuparci molto prima di riuscire ad allenare le nostre capacità non solo di attenzione ma in generale di controllo cognitivo come possiamo farlo beh allora innanzitutto è molto più facile dire cosa non dovremmo fare secondo me cosa non dovremmo fare è lasciare che diciamo l'attenzione dei nostri bambini sia continuamente guidata da device esterni sia guidata da istanze esterne che ci sia qualcosa che siano messi in condizioni di dirigere continuamente la loro attenzione la loro concentrazione sulla base di stimoli provenienti dall'esterno mi riferisco a tablet nel senso non il tablet di per sé ma i contenuti quindi cartoni animati soprattutto caratterizzati da grande velocità e da un grande ricambio di scene che è quello che tecnicamente noi chiamiamo pacing qualche anno fa è uscito un articolo che ha fatto molto scalpore che ha dimostrato che per esempio il cartone animato SpongeBob rispetto ad altri tipi di cartoni animati più educativi aveva degli effetti cognitivamente negativi in bambini di 4 anni proprio perché è caratterizzato da questa velocità delle scene molto alta che alla fine ottiene lo stesso risultato della notifica frequente su Facebook sposta continuamente l'attenzione da un oggetto all'altro senza darci il tempo di elaborare in profondità i contenuti quindi non dare fondamentalmente device prima di una certa età l'OMS tra l'altro sconsiglia gravemente fortemente l'utilizzo per esempio di l'esposizione agli schermi prima credo dei 24 mesi se non addirittura dei 36 nei primi 2-3 anni di vita non andrebbero proprio esposti a schermi i bambini in età prescolare il tipo di contenuto dovrebbe essere secondo me molto supervisionato partecipato quindi credo che sia anche importante sottolineare che questi aspetti possono queste tecnologie possono essere molto utili però se appunto gestite con la partecipazione dei genitori in maniera guidata e di sicuro l'aspetto più importante è capire che la fase di sviluppo dell'attenzione più importante è quella che va dai 2 ai 6 anni più o meno che è l'età sulla quale noi possiamo lavorare di più proprio perché c'è una massima neuroplasticità basti pensare appunto che a 2-3 anni di età noi abbiamo molti più neuroni molte più connessioni sinaptiche di quelle che poi avremo per il resto della nostra vita quindi è l'età in cui la potenza cerebrale è massima è quella in cui noi dobbiamo lavorare di più per ottenere il massimo fondamentalmente d'accordo e non pensare che invece dobbiamo preoccuparci quando magari vediamo che i ragazzini terza, quarta, quinta elementare hanno difficoltà non parlo di disturbi dell'apprendimento che sono un'altra categoria ma anche fragilità attentive forse è tardi preoccuparsi quando siamo già di fronte a una situazione che necessita la nostra attenzione d'accordo cos'altro si può fare si può allenare quello che io chiamo slow thinking cioè cercare di proporre delle attività che aiutino allenino la nostra capacità di attenzione sostenuta attività come per esempio giochi di società scacchi il disegno giochi di ruolo con la famiglia ma anche lo sport fondamentale quindi cercare di lavorare moltissimo su tutte quelle attività che sono caratterizzate da una singola attività prolungata nel tempo proprio perché il nostro cervello a differenza ora dico qualcosa che forse può sembrare controintuitiva rispetto a quello che continuiamo a sentirci dire da decenni il multitasking fa male al cervello noi siamo abituati a pensare che più cose facciamo contemporaneamente più siamo bravi quindi lo stereotipo classico è quello dell'uomo d'affari piuttosto che della donna d'affari che riesce a mantenere una vita lavorativa che contemporaneamente fa altre mille cose purtroppo il nostro cervello non si è evoluto per funzionare in questo modo il nostro cervello ha bisogno di fare una cosa alla volta per farla bene o di passare velocemente da un'attività a un'altra ma fare più attività contemporaneamente non solo non è fisicamente possibile ma va a discapito di quella che è la capacità di apprendimento la capacità di far bene quindi questo vuol dire che se noi esponiamo i nostri bambini molto precocemente ad attività che richiedano molta attenzione divisa quindi fare più cose contemporaneamente ok oppure esponiamo molto velocemente l'attenzione da una parte all'altra dello spazio visivo o dello spazio uditivo e così via stiamo diciamo remando contro stiamo in qualche modo andando a a introdurre una possibile traiettoria di sviluppo diciamo divergente dell'attenzione ecco quindi il mio consiglio quello che mi sento di dire appunto riassumendo è di cercare di limitare al massimo diciamo attività che che vadano a disgregare l'utilizzo dell'attenzione in maniera continuativa e focalizzata in favore di attività che invece soprattutto grazie anche all'interazione con la famiglia con i pari con i genitori ecco possono invece lavorare molto sulla capacità di mantenere l'attenzione nel tempo sport scacchi e altri tipi di attività del genere ecco chiudiamo con un'ultima domanda mi riallaccio anche a quello che ha detto adesso giocando lavoriamo particolarmente sull'attenzione del viso spaziale i nostri ragazzi sono particolarmente concentrati addirittura immersi in attività piacevoli che li stimano quando è importante questo aspetto sul miglioramento delle funzioni cognitive e relazionali di soggetti in via di sviluppo fondamentale nel senso che il nostro sviluppo cognitivo non è qualcosa da intendersi come in maniera indipendente dal contesto sociale emotivo relazionale in cui viviamo anzi è qualcosa che è fortemente interconnesso non nelle università abbiamo un po' questo piccolo difetto di dover suddividere le cose spesso in maniera anche un po' eccessiva quindi parliamo di sviluppo cognitivo spesso come se fosse indipendente dallo sviluppo sociale come se fosse indipendente dallo sviluppo emotivo relazionale e così via in realtà un bambino in via di sviluppo è un organismo in fortissima interazione con il mondo dei pari con il mondo della famiglia con il mondo della scuola con tanti micro macro diciamo livelli all'interno del quale interagisce e la sua capacità di funzionamento cognitivo legato all'attenzione ma anche allo sviluppo linguistico ma anche delle attività di coordinazione motore e così via è qualcosa che è fortemente legato al contesto all'interno del quale interagisce fondamentalmente quindi il gioco è fondamentale è un'attività che non è da intendersi solo in maniera ludico ricreativa ma il gioco può fortemente andare a lavorare soprattutto se parliamo di gioco strutturato volevo soltanto dire appunto che lo sviluppo cognitivo non può essere concepito e pensato in maniera indipendente da altre sfere di funzionamento della persona che è la sfera sociale la sfera emotiva relazionale e così via attraverso il gioco noi possiamo lavorare su tutti questi aspetti soprattutto se il gioco è un gioco strutturato è un gioco organizzato per cercare di promuovere determinate funzioni mentali ci sono già moltissimi programmi a livello internazionale ma anche nazionale che si possono che si portano avanti già dalla scuola prescolare che sono sotto forma di giochi giochi per esempio anche di ruolo giochi di interazione che in realtà nascondono come dire la possibilità di allenare delle funzioni mentali che sono fondamentali per il dopo per l'apprendimento formale per esempio le capacità di controllo inibitori quindi rispettare i ruoli del gioco cioè io parlo soltanto quando il gioco richiede che io parli quando il mio ruolo al mio ruolo è richiesto di parlare o di fare una determinata azione piuttosto che cambiare ruolo quindi lavorare sulla flessibilità mentale e così via quindi attraverso il gioco noi possiamo veramente mettere dentro quei piccoli anticorpi cognitivi che ci saranno utili per interagire in una società che sempre più precocemente ci espone diciamo a stimoli eccessivi molto veloci che vanno a discapito della nostra attenzione se da una parte è vero che si può sempre lavorare diciamo in tutto l'arco della vita no? possiamo sempre cercare di stimolarci possiamo sempre cercare di migliorare le nostre attività cognitive è anche vero che il guadagno che noi abbiamo dall'investire molto precocemente ok? è molto maggiore di quello che potremmo ottenere preoccupandoci intervenendo quando spesso le situazioni ci si presentano davanti agli occhi in maniera evidente quindi vuol dire che devo preoccuparmi di lavorare molto prima sullo sviluppo delle competenze cognitive dei bambini già in epoca prescolare e ancora prima piuttosto che pensare di intervenire con dei programmi di miglioramento o di come posso dire di potenziamento nell'età della scuola primaria che sono benvenuti però stiamo intervenendo quando spesso le difficoltà si sono già manifestate e siccome al netto diciamo di situazioni che vanno nell'ambito dello sviluppo atipico quali dislessia disturbi dell'apprendimento eccetera noi sappiamo che c'è una grande variabilità individuale nella capacità di usare l'attenzione ok quindi non dobbiamo lavorare soltanto sui programmi per bambini che hanno delle difficoltà evidenti ma dobbiamo preoccuparci di intervenire molto precocemente per rindurre delle traiettorie di sviluppo il più possibile funzionali e questo lo possiamo fare attraverso dei programmi specifici a scuola non so se mi è perso o se mi sente ancora mi sente? sì sì ah ecco perfetto no dicevo che dobbiamo intervenire molto precocemente possiamo farlo tramite dei programmi scolastici per esempio una delle esperienze che noi abbiamo fatto nell'istituto comprensivo col quale collaboro nei pressi di Padova abbiamo fatto un progetto di ricerca intervento introducendo un programma di mindfulness e yoga per bambini però abbiamo cercato di unire l'aspetto scientifico quindi abbiamo valutato alcuni aspetti di funzionamento attentivo e di controllo cognitivo in bambini di età prescolare erano dai 4 ai 6 anni prima e dopo l'intervento e abbiamo visto dei notevoli miglioramenti sia nei punteggi ai test che noi abbiamo utilizzato sia anche ai questionari rivolti ai genitori quindi questo è un qualcosa che in realtà può essere reso come dire strutturale può essere reso programma ministeriale può essere reso come dire parte dell'esperienza didattica quotidiana del bambino anche perché le prove scientifiche di efficacia ci sono il resto lo dobbiamo fare noi genitori a casa noi genitori e noi educatori fondamentalmente bisogna pensare che tutta la comunità è educante non c'è solo la scuola non c'è solo il genitore è tutta una comunità che deve educare e tutti dobbiamo essere consapevoli del fatto che da una parte ci sono delle cose che si possono cambiare nella nostra vita delle pratiche sbagliate degli aspetti sui quali possiamo intervenire dall'altra parte dobbiamo sapere che ci sono degli altri aspetti purtroppo sui quali non ci è dato di intervenire perché per esempio se parliamo di difficoltà che è abbastanza importanti nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo il nostro range d'azione è molto più limitato anche se ovviamente possiamo lavorare ma la cosa importante è capire la differenza cioè capire che fondamentalmente siamo noi a fare la differenza capire che siamo noi che dobbiamo intervenire noi società molto precocemente se non siamo consapevoli di quali sono diciamo le problematiche alle quali si può andare incontro ci troviamo sempre a rincorrere e ci troviamo sempre fuori tempo massimo nel dover intervenire rispetto a quello che si può fare già molto precocemente grazie per questo momento per essere stato con noi grazie a voi grazie a tutti